Il razzismo uccide, ma anche altre frasi come ad esempio la guerra tra poveri, la vincono i ricchi. Questi i cartelli che sono stati affissi, manifesti nel quartiere di Saione, a D'Arezzo, un quartiere che da diverso tempo vive indubbiamente una forte conflittualità tra gli aretini, insomma autoctoni e le popolazioni di migranti che qui in questo quartiere abitano, ma sentiamo che cosa ne pensano proprio i cittadini. Rappresentano un po' quello che la gente di buon senso vuol dire e che vorrebbe che fosse fatto. C'è molta gente che è disponibile a fare del bene e avere nel cuore ciò che molti altri non hanno. I manifesti sono comparsi la mattina del 5 gennaio, nel giorno in cui la Regione Toscana aveva annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto sicurezza del Governo. Secondo voi risolve il problema? Per me no. Perché? Perché secondo me non risolve niente, anzi peggiora la situazione. Noi dobbiamo essere clementi verso gli altri e gli altri violano tutte le nostre regole. Questa è una cosa che come italiana non mi sa bene. Tanti i messaggi che si leggono nei manifesti che però non sono firmati. Non vengono per delinquere, non vengono per razziare, vengono per ricominciare. E ancora, il problema non si risolverà per quanto massicci possano essere i lucchetti. È chiaro che siamo arrivati a dei limiti causati da situazioni procreate negli anni. È inutile dare la colpa a questi che sono arrivati ora, quando si sono ritrovati in mano una patata già che bella è scoppiata.